Nel periodo della guerra, vivere a Castel Fiorentino significava anche soffrire la fame e solo con la solidarietà si poteva superare questa condizione. Come faceva Fiorino Falai, che aveva una macelleria nel corso Matteotti e sapeva dei problemi economici di molte famiglie. Durante la giornata, quando pesava la carne e i suoi clienti benestanti, ne solleva qualche grammo per distribuirla a fine giornata alle famiglie più povere. Fiorino vedeva la sofferenza e la fame di molte persone ogni giorno e faceva tutto quello che poteva per aiutarli, senza danneggiare nessuno. A lui va la rinascenza di molte famiglie di Castel Fiorentino.